Buongiorno e bentrovati. Primo passo, il contesto. Gesù sta parlando ai farisei e agli scribi che sono scandalizzati perché lui accoglie i peccatori e mangia con loro. Queste parabole sono rivolte a loro perché si credono giusti e sono rivolte anche a noi quando ragioniamo come loro. Quindi il maestro racconta tre parabole sulla perdita di ciò che è prezioso. Si perdono una pecora su 100, una moneta su 10, un figlio su 2. C'è una sempre maggiore preziosità. Tutto questo ci dice che nel cuore di Gesù uno vale unico, nel senso che ognuno è irripetibile e insostituibile perché siamo figli, non siamo pezzi di ricambio. Secondo passo, la moneta. Gesù dunque paragona l'altissimo a una donna e già questo fa rizzare i capelli ai religiosi di ieri e di oggi. Questa donna perde una moneta che equivale al guadagno di un giorno di lavoro. Lei è piuttosto cocciuta e non si rassegna, non accetta che la fatica di un giorno vada perduta. Anche il padre di Gesù è così. Non vuole che il nostro impegno sia inutile, che la nostra fatica vada persa o sprecata. Terzo passo, che cosa il Signore non vuole? Da tutto ciò comprendiamo che il Signore non è neutrale nei nostri confronti, non è un arbitro imparziale, non è super partes. Lui sta da una parte precisa, la nostra. Non accetta di perderci e ci viene a cercare, anche se questa sua ricerca dovesse durare per tutto il tempo della nostra vita. Siamo Suoi figli e Lui che è cocciuto non vuole perderci. Quarto passo, il potere ricevuto. C'è un'altra notizia inaudita che Gesù ci dà in questo brano. Una creatura piena di difetti e di peccati come me può essere causa di gioia per Dio. Io e te, lasciandoci ritrovare da Lui, possiamo suscitare gioia in Dio. Abbiamo il potere di dare gioia a Dio. Ciò che ci dice il Vangelo è incredibile e lo troviamo solo nel Vangelo. Ricordando questa meraviglia e la nostra facilità a perderci, possiamo pregare con l'ultimo versetto del Salmo 119. Come pecora smarrita vado errando. Cerca il tuo servo perché non ho dimenticato i tuoi comandamenti.